Sono nato a Savona, voglio dire quasi per caso nel 1929, e dico quasi per caso perché? Perché i miei genitori e mio padre in particolare erano i tempi in cui qui in Italia per lavoro bisognava avere la tessera del partito fascista e mio padre siccome era di idee socialiste era migrato in Francia, però siccome a quei tempi i poveri, le madri non partorivano in ospedale ma partorivano in casa, mia madre aveva la sua famiglia qui a Savona e sono nato a Savona, ecco perché, ho detto per caso, e siamo stati in Francia fino al 1935, perché il 1935? Perché in quell'epoca in Francia era uscita una legge per la quale i lavoratori stranieri se avevano acquisito il diritto dopo dieci anni di permanenza lavorativa in Francia potevano acquisire la cittadinanza francese ma avrebbero perduto quella di origine. Questa era una legge che era uscita. Allora mio padre e mia madre, che avevano ancora le famiglie qui, si sono parlati e magari dietro l'influenza di mia madre più di mio padre, purtroppo hanno deciso di tornare in Italia. Ecco questo è stato un po' l'inizio e diciamo così anche la mia formazione, anche inconsapevolmente data la mia età. Devo ringraziare anche l'ambiente dove sono cresciuto, il rione delle Fornaci, che era un rione che era prevalentemente di classe operaia e praticando anche quest'ambiente è logico che, inconsapevolmente magari, però si cresce in una certa maniera. Quando è cominciata la guerra io ho cominciato a frequentare le scuole medie e anche lì devo dire che fra i professori ce n'era anche qualcuno che non era soggetto al regime fascista ma manteneva una sua individualità anche sul piano che magari non la esprimeva apertamente ma anche nel modo di insegnare specialmente. Un professore di lettere aveva la possibilità magari di insegnare certe cose che se si volesse potevano anche assimilare. Poi è dal 25 luglio del 1943 che le cose effettivamente sono cambiate in una maniera tale per cui è stata ancora più difficile vivere giornalmente. E naturalmente i comportamenti anche nostri che erano fatti prima di tutto di paure rispetto alla situazione reale ma anche a volte di aiuti da parte dei più grandi che ci aiutavano in una certa maniera. Io per esempio ricordo che dall'8 settembre del 1943 in poi in pratica frequentando nel Rione persone naturalmente più anziane quindi con la responsabilità che derivava dalla loro età e anche dalla loro collocazione politica certe cose si imparavano e addirittura anche se poi con il tempo dopo ho capito che certe cose io magari le facevo, mi comportavo conseguentemente anche non solo i loro insegnamenti ma anche l'aiuto proprio che davano. Magari ci si trovava di fronte a certe situazioni e dicevo come ho fatto? Ma ho fatto probabilmente perché loro mi hanno aiutato a farlo, come fare certe scelte. Io ricordo che al di là della resistenza, che devo essere molto sincero, per me è stata una cosa marginale, io sono stato iscritto al fronte della gioventù. In pratica io pensandoci adesso posso dire che non sono io che ho scelto di far parte del fronte della gioventù ma qualcuno ha scelto per me nel senso che evidentemente ha ritenuto di potermi dare magari una certa fiducia come lo stesso per quello che riguarda il Partito Comunista. Io sono stato iscritto al Partito Comunista dal 1945 ma quando non c'era ancora la tessera del Partito Comunista e dopo gli studi ho avuto un'altra fortuna dal mio punto di vista, quella di andare a lavorare nell'ambito portuale. Anche in quell'ambito io ho trovato della gente, dei compagni che mi hanno insegnato a vivere perché bisogna dirlo proprio terra a terra, non delle persone che la loro cultura non se l'erano fatta sui banchi di scuola ma se l'erano fatta nella vita quotidiana. Io avevo già avuto modo di indicarvi per esempio un compagno come Libero Bianchi che guardate che ha fatto il Garibaldino di Spagna, ha avuto degli incarichi di responsabilità nel movimento partigiano, è stato anche commissario politico di brigate e via discorrendo e guardate che è finita la guerra, compagni di questo genere non hanno chiesto niente in cambio. Libero Bianchi ha finito la sua vita lavorativa al porto come lavoratore portuale. Noi abbiamo avuto questi insegnamenti. Non è che ti chiedevano se vuoi, e questo è il problema, magari c'è da fare una determinata cosa che magari non si trattava di andare con le armi, sia chiaro, questo è il problema, di svolgere determinate funzioni e si svolgevano così. Ecco perché, ripeto, sul fatto che erano quei compagni lì che ho capito poi che davano fiducia per certe cose. Io ce ne sono ancora adesso dei compagni che sono vivi, che erano nel fronte della gioventù con me. Ci sono dei compagni come i fratelli Bramante, riconoscevano, tu li conosci, un tuo vicino, erano nel fronte della gioventù a quei tempi. Quindi cosa comportavano? C'erano i rischi? Cosa era cosa succedere? Ma i rischi c'erano senz'altro, nel senso che evidentemente allora anche, per esempio, camminare per strada a una certa ora, perché bisogna ricordarsi che a una certa ora c'era il coprifuoco, e allora anche per camminare per la città, per le vie della città, poteva comportare certi rischi come il fatto magari di incontrare un fascista o qualcosa che ti fermava e che ti diceva dove andavi. Naturalmente non è che ci trovavano con qualcosa in tasca, sia chiaro, però poteva succedere anche cose di questo genere. Io devo dire la verità, rischi non ho mai corso, bisogna essere sinceri, non ho mai corso. Forse l'unico rischio che ho corso, che non l'ho corso da solo, mi ricordo che nell'ottobre del 1944 venivo da Bergeggi in bicicletta e quando sono arrivato a Vado, dove c'è il torrente, segno, dalla parte di Ponente del torrente c'era il posto di blocco dei San Marco. Quella mattina lì erano le sette e mezzo, ma non solo con me, perché molta gente andava in bicicletta e quella mattina lì, non si sa il perché, ci hanno fermato e requisivano tutte le biciclette. Ma ci chiedevamo, ognuno dentro di noi, perché non è che ci conoscessimo tra quelli che ci hanno fermato, e diceva, ma cosa vorranno? Fortunatamente ci hanno requisito la bicicletta ma non ci hanno chiesto altro. Soltanto che poi senza bicicletta le condizioni erano diverse, tanto per dire. Non è che fosse una requisizione che comportava la stesura di qualche verbale, qualcosa, l'hanno presa, vai. E noi eravamo ben contenti di potercene andare senza dire neanche grazie. Questo è il problema. Erano i San Marco. Portuali che hanno partecipato alla resistenza ne ho conosciuto, però non abbiamo mai fatto niente in comune. Io li conoscevo, avevo degli amici, dicevo che c'era un distaccamento che l'Antonini, nel quale hanno militato diversi portuali che li ho conosciuti personalmente. C'era padre Fido Moia, c'era Aldo Garde, c'era Giulio di Salvatore, erano tutti nello stesso distaccamento, erano portuali. Sì, forse potevano considerare Sapa. Ma oltretutto c'è un fatto, bisogna spiegare anche una cosa, che non è che sapessimo l'uno dall'altro quello che si faceva, bisogna essere chiari. La mia esperienza è stata questa. Il 25 aprile che si festeggia, è logico che dal mio punto di vista è da festeggiare, però per me il 25 aprile è un giorno triste, più che è da festeggiare. Perché? Perché per esempio io il 25 aprile alle 2 del pomeriggio è mancato, è stato ucciso un mio amico, un mio compagno, che è Franco Santorelli, che è stato ucciso alle Fornaci. Insieme a un altro compagno erano indirizzati sulla rocca di Leggine, perché c'era una mitragliatrice ancora dei tedeschi. In parole povere, attraversavano più o meno dove c'era il deposito ferroviario e non si sono accorti che c'erano due tedeschi. Uno dei tedeschi gli ha tirato una raffica di machine pistole, ma i tedeschi quando usavano il machine pistole su un singolo obiettivo sparavano in verticale. Franco Santorelli ha preso una raffica, ha preso tre colpi. Io ce l'ho qui presente ancora adesso, ha avuto un proiettile qua, uno nel petto e uno nella pancia. Fortunatamente, dovendo morire, è morto all'istante, tanto per dire. Ecco, allora, avendo di queste esperienze qua, per me è il 25 aprile un giorno triste. Certo che è da essere contenti del fatto che è finita la guerra, è finita in una certa maniera, però chi non c'è più, chi l'ha conosciuto, io quando, non ci vado raramente, perché, ma quando vado e vado al Sacrario, 4, 5, 6, anche compagni che sono lì, ci siamo conosciuti personalmente, e a volte mi dico, ma guardandovi mi dà l'impressione che il tempo non sia passato, perché loro non hanno avuto la fortuna di diventare vecchi, sono rimasti nella fotografia come erano, e io magari mi illudo di vedermi così come erano con loro. Una cosa che dovremmo trasmettere ai giovani è questa, il fatto che la guerra, tra le altre cose, abitua le persone a convivere con certe situazioni, e anche con i morti, perché un morto dà sempre una certa sensazione, e anche allora magari la dava, però nello stesso tempo ci avevamo fatto un'abitudine anche a vivere a questa maniera, secondo me questa è una tragedia dell'uomo. Noi ricordiamo quando dopo i bombardamenti si andava a vedere quando i vigili del fuoco, i volontari andavano a scavare tra le macerie, tutti i morti che c'erano. Adesso io non parlo dei partigiani che tutto sommato, responsabilmente, avevano fatto una scelta per combattere, ma tutti i civili che morivano senza nessuna colpa, senza niente, e dover vivere e morire a questa maniera, perché un ragazzo di qualsiasi età che ha bisogno di dormire alla notte e quando va magari in letto alla sera e non sa se riuscirà a dormire fino al mattino, ma durante la notte suona l'allarme, scappa in galleria, che la galleria è venuta dopo, perché noi dobbiamo tenere presente una cosa, tanto per dire come hanno trattato i civili, il regime fascista. Guardate che come rifugio, per quel che riguarda i bombardamenti, puntelavano con i pali di legno le cantine e i cittadini pensavano di andarsi, appunto, a rifugiarsi in una cantina. E quante persone sono morte sotto le cantine. La spiaggia noi la vivevamo, da ragazzi la vivevamo specialmente d'estate, finite le scuole, in pratica era il nostro luogo di divertimento, non c'è dubbio su questo. La TOD, in pratica, su tutto il litorale delle fornace, a partire dalla centrale, dal pontile, dalla centrale, che allora era in ferro, perché il pontile della centrale allora serviva per sorreggere dei tubi di aspirazione dell'acqua per raffreddare la centrale elettrica. E proprio in quell'angolo, in quell'ansa lì, io mi ricordo che a ottobre del 1941, non si sa bene perché o come, probabilmente un sommergibile, ha lanciato un siluro che non ha colpito nessun obiettivo, ma si è arenato proprio sulla spiaggia lì.